Queste sono tutte le scuole di Roma e provincia dove sono stati tagliati gli insegnanti di scuola primaria. Significa che sono 315 scuola a Roma e provincia, sono stati tagliati 341 insegnanti di posto comune. Noi dovremmo avere come scuola maffi 47 insegnanti, guarda quanti ne hanno dati, 45. Sono ancora qui da ieri giorno e notte davanti al ministero dell'istruzione, genitori, insegnanti, bambini. Carte alla mano spulciano i dati ufficiali che smentiscono le dichiarazioni del ministro. La verità sostengono è che di tagli alla scuola ce ne saranno altri anche l'anno prossimo. Nella nostra scuola ci sono stati due pensionamenti che in teoria dovrebbero essere coperti il prossimo anno in organico e che non verranno assolutamente coperti. E due classi della scuola dell'infanzia non verranno attivate, quindi noi avremo una lista di attesa di 40 bambini che non troveranno posto né nella scuola comunale né nella scuola statale. Solo nella capitale 250 insegnanti in meno, su 185 scuole solo 8 maestri d'inglese. Ma il dato nazionale stimato è di circa 2000 posti in meno rispetto all'anno scolastico che sta finendo. Gli insegnanti di sostegno possono essere uno ogni due bambini. Un insegnante di sostegno ogni quattro bambini disabili, in classi che spesso superano i 25 alunni. È illegale, sono partiti ricorsi. Proprio oggi il tribunale ha dato ragione ai genitori. Mia figlia ha diritto ad avere un insegnante di sostegno con rapporto uno a uno per tutto l'orario scolastico. Ma lei sa se l'anno prossimo effettivamente ci sarà questo insegnante? Non lo so, a questo punto non lo so.